Il distretto turistico del Salento è realtà. Nella giornata di ieri, infatti, il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha firmato il decreto istitutivo e che fa del Salento un'area a burocrazia zero, con importanti sgravi fiscali e con nuovi progetti in vista. L'idea del distretto turistico, presentata nel mese di ottobre 2015 dal prefetto di Lecce Claudio Palomba e dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, rappresenta certamente una delle opportunità più importanti per il futuro dell'intero territorio salentino, che adesso diventerà un'area a burocrazia zero. Aprire e gestire un'attività produttiva e ricettiva ora sarà più semplice e di conseguenza diventerà più facile pianificare e progettare gli investimenti sul territorio. Tra gli obiettivi principali del protocollo d'intesa, l'allungamento della stagione turistico balneare, la riqualificazione delle strutture sul litorale, ma anche potenziamento di porti, servizi di trasporti e di accoglienza. Il coordinamento del nuovo distretto turistico sarà affidato alla prefettura e alla provincia di Lecce, in concerto con la Regione Puglia. Non solo i comuni del litorale, ma anche tutti i 97 che compongono la provincia di Lecce avranno la possibilità di lavorare in squadra, attraverso idee e progetti in una grande sfida turistica, economica e culturale. Un'occasione straordinaria per tutto il territorio, hanno commentato il presidente Michele Emiliano e l'assessore Loredana Capone. L'auspicio è quello di poter vedere alla fine del percorso una vera sinergia tra imprese, istituzioni, territorio, attori a vario titolo coinvolti nel progetto, perché questo territorio è il più bello del mondo assieme a tutta la Puglia. Grazie a tutti! Grazie.